Dobbiamo buttare i soldi invece che nel patrimonio artistico per intercettare dei coglioni? Dobbiamo ridurre le intercettazioni ai fatti di mafia e di terrorismo, come si è sempre detto, no, le aumentano queste teste di cazzo. Una cosa patetica, il carcere è vero perché la condanna di Berlusconi, che è una condanna scandalosa, è al primo contribuente fiscale d'Italia trattato come evasore, paga 500 milioni all'anno di tasse e lo incriminano per 5 milioni, ma che roba è? Dovrebbe addirittura andare in carcere, se uno paga tante tasse puoi evadere delle altre. Ma che roba è? Ma l'evasione fiscale è legittima dove c'è uno Stato che ti sbatte sulla testa delle aliquote intollerabili, si evade perché non c'è un limite corretto come c'è in America alla pressione fiscale, per questo si evade, mettili al 15 e vedrai che la gente... Se questo è il criterio per misurare l'evasione di sopravvivenza sono tutti evasori. Posso timidamente? No, ma volevo dire anche... Tutti sono evasori. Timidamente, lo dico timidamente. No, è un decalogo di... è il decalogo di travaglio, di un uomo pericoloso... Ma certo, quello del fatto è sicuramente il decalogo di travaglio, anche se lo scritti... è stato condannato per gli insulti e le diffamazioni che ha fatto e che il quale ha ispirato 5 Stelle. Quanto al giovane Feltri, immagino parente di Vittorio... Ma no, ma non lo è. Non sei parente, è un omonimo, non lo è. Ci sono anche degli scambi che... Ma io ti chiedo, vorrei che mi spiegasse, visto che è nella trasmissione di un delinquente e tu sei dipendente di un delinquente, cosa vuol dire 10 punti per eliminare il delinquente? Cosa vuol dire delinquente in Italia? Uno che è riabilitato. Uno che è condannato per definitiva. E' il coraggio di quel giornale privo di dignità, con cui insultava la gente. C'è il decoro e il rispetto per la legge. Delinquenti siete... E voi, con il fatto, il giornale di diffamatori, tu hai sempre torto qualunque cosa tu scrivi su quel giornale di mezzo. E' un condannato definitivo, ha una serie di indagini, anche una... A casa del delinquente, vai a casa tua, vai a casa tua, vai a casa tua, faccetta di bullo. Ma basta, basta, lei era partito così male, è finito peggio.